Post-dessert, anche post-intervista, di solito l'intervista si fa da sobri, ma abbiamo già abbastanza smaltito i piccoli assaggi, il purring con i piatti di Rocco, di cognome, non so perché il ristorante si chiama Davide di Rocco, perché il ristorante è di Rocco, tra l'altro stavamo guardando l'ultima guida dell'Espresso che verrà presentata dopo un anno e mezzo dove il ministro di Rocco ha ottenuto ben due cappelli, non come io che ne avevo uno solo, due cappelli al momento e poi comunque sono arrivata anche adesso fresca, anche perché era proprio l'inprocinto di ottenerle, ma finché chiaramente non te le danno, è chiaro che sei sempre nell'anticamera, quindi adesso chiaramente spero se ne sia occupata la cronaca locale, anche perché siamo a Noale, e Noale in effetti ha più, insomma anche locali segnalati nella guida, quindi insomma... Abbiamo il nostro bel patrimonio. Esatto, comunque c'è una buona offerta, diciamo che lui è un po' quello insomma che ci auguriamo poi che faccia parlare di più, nel senso che ecco è una cucina ricercata, un servizio chiaramente particolare, una location appartata che a parte la festa del patrono, o meglio sono capitano, che è la... come si chiama? Il palio. Il palio, ecco che a parte quello chiaramente si può parcheggiare praticamente anche davanti proprio al ristorante, una zona del centro, molto interessante, poi c'è la torre, c'è la rocca dei tempestri, la rocca dei tempestri, ecco devo dire che poi c'è un Deor, vedo che siamo, cioè il... non siamo Venezia, però ci sono... Beh, piccoli scorci, poi nel canale, ecco, ecco, quindi... Sempre in un contesto storico, ecco, quindi un locale molto interessante che esiste... mister di Rocco, esiste da... Beh, con me dal 2020, era già un... Ah, quindi, quindi proprio col covid? Con il covid, non proprio, con il... C'è, quindi aperto d'estate. Esatto, ho aperto tenendolo chiuso. Sì, perché l'ho rilevato a marzo 2020, l'ho potuto aprire al pubblico al primo di giugno. Ah, ecco, quindi prontamente le guide, vedevo appunto le varie guide dell'Espresso che sono qui in Bacchecca, insomma, ci sono tre, questa è la D22, 2021. La quarta deve arrivare, ecco, è anche da noi. Esatto, ve l'ho presentata, perfetto. E quindi bene, quindi prima, prima diciamo di aprire un ristorante come questo immagino ci siano state le esperienze. Assolutamente, anche perché sennò era improvvisato, insomma. Ecco, ecco, il cosiddetto background. Esatto. Beh, io prima di qua ero al FUEL di Padova, in Prato della Valle, ho un'ottima storia anche come personaggio del titolare, insomma. Devo anche, grazie a lui, a dove sono arrivato, insomma, quindi mi ha dato sempre carta bianca e libera la scelta. Prima invece ho fatto le mie esperienze, sempre nell'ambito della Michelin, per stare in te, come se, da Cracqua, Calacciola, Veda. Insomma, sono arrivato a Venezia dove ho fatto il Bauer, quando era in auge. E poi prima, poi prima in tutti i vari posti di livello, in Hotel Cinque Stelle Lusso. Ah, ecco, quindi proprio comunque ristoranti in albergo, perché in effetti poi ci sono le migliori condizioni anche per fare un certo tipo di cucina. Infatti mi chiedevo qui, qui poi portando tutto a casa, annuale, no? Dopo aver girovagato, come quelli che vanno, non so se è abitato pure a Di Rocco, di andare a lavorare da Ducasse, che è sempre il nome, il cognome, che torna dopo Ducasse, gli alberghi dove chiaramente c'è Ducasse, chiaro, è un piatto che costa 50-60 euro, che torni a casa difficilmente potrai proporlo, quindi devi un po' ridimensionare. Quindi qui al Di Rocco, no? Di Rocco che sei altro? Di Rocco, ma c'è anche un altro nome, qualcuno lo mette? Qualcuno lo mette, qualcuno lo mette. Noi siamo di Rocco Ristorante, però l'edificio che ci ospita si chiama Kamat. Eh, Kamat c'è scritto sulla porta. Lì è un pezzo di storia che non si può togliere, insomma. Il ristorante si chiama Ristorante di Rocco, l'edificio che ci ospita è Kamat, perché era un deposito in aiuto, in forza, alla famiglia dei Tempesto che c'era loro. Infatti dietro di noi c'è una cavana, quindi il canale era navigabile, si arrivava proprio qua. Quindi eventualmente si può arrivare anche in barca, in gondo, non so. No, non arriva più ormai, è solo storia ormai. Non sono solo storia. Bisogna fare come a Brian Thames, dove si finge di arrivare appunto col batoio, in realtà i Tamigi non è percorribile, se ci vorrebbero non so quanti giorni, anche per partire da Londra, perché praticamente ci sono anche vari dighi eccetera eccetera. Bene, bene, quindi ecco, com'è la proposta quindi del di Rocco Restaurant? È una proposta un po' aperta a tutti, anche perché noi essendo ancora nuovi, anche se ci posizioniamo sulle guide, dobbiamo ancora consolidare il nostro zoccolo. Eh, diciamo che adesso sono gli ultimi giorni per sapere insomma come è andata, perché lo vede in generale, nel senso che durante il Covid in effetti sono anche stati primati dei locali, che hanno approfittato un po' anche del Covid, no? Certo. Chiaramente, non so, due stadi missi di Firenze, ecco, quindi adesso ci torno un po' alla normalità, quindi chiaramente quelli che sono stati favoriti in un certo senso, una brutta parola, è come se spezzassimo una lancia a favore del Covid, però in effetti sono state delle cose che potremmo dire ci voleva. No, assolutamente, noi siamo stati sostenuti durante il Covid, però è da due anni a questa parte che finalmente incominciamo a vedere e capire come posizionarci. Quindi bene, no, ecco, io lo chiedevo per via del menù, cioè un ristorante gastronomico presente nelle guide comunque tende a proporre più il menù, l'esperienza gastronomica, visto che il servizio, ho potuto notare, è impeccabile, curato, quindi quando veramente i due commensali ricevano i piatti e avevano due camerieri che contemporaneamente servono, insomma, chiaramente, no? No, noi stiamo facendo la transizione, perché noi siamo partiti che vogliamo fare due realtà inizialmente, no? Quindi fare il bistro e il gourmet, poi il Covid, come ha detto, Ah, e quindi? E quindi ci ha avuto dimensionato, ok? Perché non pensavamo di aprire e rimanere effettivamente chiusi, però ormai la comunicazione era quella, quindi ci abbiamo provato. Perché nel, pensino di queste guide, si parla di due locali, perché voi avete aperto, cioè, voi avete aperto nel 2020, tipo gennaio, febbraio, No, eravamo aperti però quel delivery, ok? Non eravamo aperti, ecco. Quindi per sostenerci dovevamo utilizzare i fondi che avevamo a disposizione per fare l'investimento. Certo, 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 però l'idea era quella. L'idea era quella, invece adesso, come ho ripeto, da due anni a questa parte, finalmente abbiamo trovato il nostro filo conduttore, ecco perché nella proposta si trova un po' di tutto un'offerta non vario pinta, perché è ben dedicata, dedita a quel lavoro che dobbiamo andare a fare, però abbiamo uniformato un po' tutto, ok? Quindi non c'è più l'idea di bistrò gourmet. Noi offriamo questo, pian piano ci stiamo arrivando dove, cioè, stiamo andando verso la direzione che vogliamo. Ah, quindi piatti alla carte e alla carta e alle degustazioni. Ecco, le degustazioni, ad esempio? Le degustazioni abbiamo tre. Una di solo pesce crudo, perché comunque è zona, ci sono molti appassionati di crudo di pesce, quindi noi lo presentiamo sia in maniera naturale che in maniera un pochettino più articolata. e il primo menu è il biglietto da visita, proprio il menu di quattro portate che serve per farci conoscere. Se uno è la prima, cioè se un cliente arriva per la prima volta e vuole lasciarsi alle esperienze, diciamo così, se lo sceglie il biglietto da visita, tanto che l'abbiamo chiamato biglietto da visita, proprio perché è una presentazione. Dopo c'è un mani libero dove il cliente si lascia proprio alle mani e alla mente dello chef. che si fida dello chef. Esatto. Quindi uno per rompere il ghiaccio, il secondo si fa solitamente quando uno ti conosce, non ha il primo appuntamento. Ecco qua, quindi abbiamo le due formule. Cosa stanno preferendo i vostri clienti? Su che cosa? Beh, va a montate, no? C'è il momento dove tu hai più o meno degustazione. Tipo la sera magari la degustazione. È prettamente serale il locale. Noi ci siamo aperti a pranzo per una questione di servizio, di obblighi e doveri. Ci siete? Ci siamo, però è prettamente serale. Ah, ecco. E quindi però c'è questa possibilità poi di cenare anche a pranzo, nel senso che chiaramente la proposta è sempre questa. È sempre quella, il pranzo ci ne è, non c'è il lightlunch si chiamano. Anche perché Giova a favore e sfavore, noi siamo un pochettino defilati dalla zona di passaggio e tutto. Quindi chi viene qua non è che è di passaggio, viene apposta. Prenota. Prenota, quindi fare il lightlunch è un po' più. Bene, quindi piatti si inieto a questo punto? nei risulti posso parlare apposta io arrivo dalla provincia via d'arobbio quindi a base da ecco qui quindi ritornare annuale non è tornare a casa ritornare a casa vuol dire ritornare alle origini a questa casa a robbio provincia parodia sì che siamo circondati dalle risai qua ecco sono arrivato poi per svariati motivi alunerano che carmaroli esatto si è esatto esatto mi porto qua e al riso dalle zone quindi giustamente ti porti qualcosa ad esempio ne abbiamo assaggiato abbiamo assaggiato uno con la zucca zenzero semi di zucca e polline poi il mio sogno è sempre quello di andare da quelle parti e trovare come mi è capitato tra l'altro ma è l'unico risotteria risotteria che in realtà poi mi spiegava proprio rondolino una sera perché io chiaro avevo accettato il suo invito dovevamo andare a cena ci siamo andati a finire in un posto che fa gli hamburger dove eravamo alloggiati in un hotel di buona categoria ma i risotti non ce n'erano neanche non ce la traccia risotteria solo questo famoso di manuel christian e la mamma eccetera ci avevo scritto risotteria io avevo immaginato che esatto si inizia esatto avevo sempre però un sogno diciamo nel cassetto di trovare un posto appunto come loro dove sono 20 tipi o anche più di risi quindi quante ne fate? No noi ne facciamo sempre uno fissi in carta e uno fissi in carta e uno fissi in carta e uno è extra quindi è un fuori carta che cambia in base alla stagionalità dei prodotti e tutto che emerge poi nel menù anche a maniera libera eccetera eccetera e quindi si privilegie sempre comunque carmaroli mi hanno detto quel forza no c'è il fiamone enano no sono tutti ottimi esisti ma siccome io ero venuto da quelle parti almeno una parte mia dobbiamo portare per avere un po' di autenticità quindi un piatto invece da sua parte chiaramente per il risotto chiaramente bisogna venire qui da di no con oale però proprio un piatto che ha un nome che ha quindi una serie di ingredienti beh il piatto tipo è il dolce nostro che è a base di zabaione nei due anni che sono stato a Padova c'era una torta tipica ok noi l'abbiamo rivisitata o scomposta l'abbiamo reinterpretata ecco cambiamo queste terminologie ed è diventato un nostro piatto simbolo come dolce insomma poi abbiamo la crostolina vegetariana poi il risotto bene o male questi sono poi pian piano diventati tramite la gente perché alla fine è la gente che poi a forza di richiederteli si determina il piatto nel caso di vegetariani come è capitato anche in questa occasione con la mia accompagnatrice quindi notavo che c'era del tofu che mia moglie insomma spesso cucina ma ha gradito perché eventualmente era cotto in modo particolare cerchiamo di accontentare anche il tofu è in carta in un certo senso ce l'abbiamo ce l'abbiamo perché noi comunque accontentiamo tutte le fasce di gradimento quindi anche per i vegetariani e vegani abbiamo poi interveranti al glutine e latticini però cerchiamo sempre di soddisfare i clienti infatti sul nostro menù c'è proprio scritto una frase dedicata al mondo vegetariano e vegano che fa se non trovi qualcosa che ti può interessare tu non ti preoccupare domande che comunque una soluzione c'è non ti soffermare solo su quello tu chiedi che qualcosa ti verrà dato diciamo che il colore il colore diciamo della preparazione poteva ricordare più il seitan il tofu sarebbe bianco quello è diventato grigliato non l'ho assaggiato anche perché avendo una moglie vegetariana chiaramente di tofu quindi proteina praticamente proprio è un po come un po il tofu si adatta insomma un po come la capa santa no si se ne sono la capa santa la devi grigliare oppure la devi insaporire ma non ha è trasparente non c'è tutto senso ma non ha un sapore ecco che no certo parte chiaramente le capa sante crude chiaramente le fanno partire ecco però si adattano molto bene la preparazione quindi bene bene poi abbiamo i vini il cuoco entra anche nel campo del sommelier essendo chef patron ecco in un modo centro ok però quella parte è dedicata al sommelier collaboriamo per la scelta però l'entica che vogliamo avere all'interno del ristorante dopo però è lei che fa questa parte che seguo questa parte bene bene se non ci sono altre cose noi ci auguriamo di tornare sempre con lo chef per riaggiornarvi chiaramente grazie ad altri successi che non tarderanno secondo me bene complimenti grazie mille di rocco